Il Movimento 5 Stelle non va alle consultazioni farsa di Napolitano, lo ha scritto Beppe Grillo in un tweet. Non solo i grillini non andranno alle consultazioni, ma organizzeranno domattina delle contro-consultazioni a Roma. Anche la Lega diserterà le consultazioni, alla finestra, per ora, SEL e Forza Italia. Ma sentiamo adesso Silvia Giordano dei 5 Stelle. La decisione è stata presa come nostro solito dall'Assemblea dopo un periodo di discussione. Abbiamo deciso che non è il caso di partecipare alle consultazioni, anche perché sono delle consultazioni farsa. Ormai il tutto qui è solo un teatrino organizzato dal PD e da Napolitano. Quindi è del tutto inutile partecipare da rapido ancora di più a questo teatrino. Non vogliamo partecipare a questi giochetti.